Via! Via! È una barca di 12 metri, 280 persone. La maggior parte seriane, gente che scappa dalla guerra, sono africani. Dopo circa 15 ore, si è rotta la barca in mezzo al mare. Io volevo ottenere il premesso di soggiorno per la prima cosa di andare a ritrovare la mia madre e i miei padri, perché sono passati circa quattro anni e mezzo. Lui non può uscire dall'Italia. È bloccato.